L'indagine era scattata dopo un sequestro di droga operato alcuni mesi fa in un'abitazione di Via Lorenza a Bolzano ed ha portato venerdì scorso all'arresto di un albanese 41enne da tempo tenuto sotto controllo. E' stato bloccato in Via Piave mentre cedeva della cocaina ad un'impiegata. Seguendo la fitta rete di contatti tenuta dall'albanese, gli agenti sono poi arrivati ad un marocchino 35enne residente nel quartiere di Gries. L'uomo nulla facente e sposato con un'italiana aveva a disposizione una cantina in Via Gaismeier nella quale sono stati trovati oltre 15 kg di hashish destinati alla piazza Bolzano. Il marocchino è stato anche trovato in possesso di 6.000 euro in contanti. Io ormai temo che non si deve più parlare di aumento o diminuzione. E' un problema cronico. C'è gente che fa uso sistematico di sostanze stupacenti e le nostre attività lo testimoniano. Non parlerei di aumento o diminuzione. Parlerei di un uso o di un problema, di un fenomeno che comunque c'è. E' comunque un'attività da parte della sezione narcotica della scuola mobile e legata ai fossili di polizia che comunque è sempre, come vedete, è sempre attenta anche come testimonia il recente maxi sequestro da stradale qui a Bolzano. E' un problema globale che andrebbe affrontato anche con altre armi. Noi ci occupiamo della riflessione e questo facciamo.